Come va? Tutto bene? Bene. Bene. Il bicchiere in mano, la dice Lunga, su. Allora, ci dicono che bisogna andare solo un attimo, noi dobbiamo finire intanto, ancora, 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 butta giù ancora un sorso che facciamo vedere che è buono. Allora, abbiamo fatto il filmato. Allora, in questo ambito abbiamo risolto una criptografia mnemonica, un gioco enigmistico nel quale bisogna trovare una frase di senso. Allora, io ti ho detto 2-7-2-7 vuol dire che bisogna trovare una parola di due, una di sette, una di due, una di sette lettere. La definizione era Bracobaldo e abbiamo risolto un cartone di Barbera, perché Bracobaldo, come mai mi hai detto, Bracobaldo è un personaggio inventato da Anna e Barbera. Esatto. E quindi è un cartone animato. Quindi è un cartone di Barbera. Ecco, ambiente enologico, ci sta bene questo. E adesso, quello che non conosci, silenzio gli altri, quello che non conosci è il gioco che ti ho preparato. Butta, butta giù un sorso. Il gioco che ti ho preparato sotto. Ecco, ci hai visto che ho scritto qualcosa, ma non sai il testo. Questo lo risolverai adesso. 6-2-4, una parola di 6, una di 2, una di 4 lettere. Sempre frase bisenso, una frase che ha un doppio significato. Se tu vuoi trovare Bossi... Allora, vedo che ci stai... Ah, stai contando, hai qualche parola che stai contando con le dita. Sì. Allora, Bossi, dì tu qualche parola, dai Paolo. Bossi, allora, Bossi, come hai indicato precedentemente in un'altra vita, mi fanno sapere che Bossi in dialetto si dice anche per tronchi degli albi. Sono degli arbusti, sì, 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 però Bossi... No, qui è un personaggio. È un personaggio, quindi è un politico. È quello lì. Allora, hai la scelta tra due. Tra Lega... No, tra Junior e Senior. Senior. Ah, no, no, ma... Facciamo Junior. Junior, però ecco, entrambi... Hai detto la parola giusta, forse involontariamente. Hai detto una parola di 4 lettere. Se tu vuoi trovare Bossi... Lega. Eh, la Lega. E Lega è una parola di quante lettere? Di quattro. Di quattro. Allora, ti dico io che è l'ultima parola Lega. È un bisenso la parola Lega? Sì, vuol dire sia il partito politico che il legare, il verbo legare. Verbo legare, però ancora un'altra cosa. Ta 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 ta. Mumble, mumble. La Lega, in chimica... È una Lega, un composto. Un composto, di più elementi chimici, ok. Allora, vediamo. Se tu vuoi trovare Bossi... Concludiamo la frase. La quarta è la Lega. Quindi posso già scrivermi. Sì, Lega è l'ultima parola. Lega, sì. Tu cosa fai se tu vuoi trovare Bossi? Se tu vuoi trovare Bossi, lo... Cerchi. Lo cerchi. Per prima persona è cerco. Eh, no, no. Guarda. Ah, cerchi? Ah, ce l'ho, lo risolto. Dai. Dillo, dillo, dillo. Cerchi in Lega. Cerchi in Lega. Mi piace l'espressione delle persone che risolvono il gioco. Perché è come la lampadina. Cerchi in Lega. Se tu vuoi trovare Bossi, lo cerchi nella Lega. E cerchi in Lega. Bello, bello, bello. Ti è piaciuto allora? Sì, sì. Eccoci. Vedi che eri un po' titubante. Devi brindare, devi brindare. Mi sono meritato. Ecco, il prosciutto l'abbiamo fatto fuori, abbiamo fatto fuori tutto, ma che è solo questo. Bene, complimenti per la... Funzione. No, per il tuo look, scusa. Grazie. Bene, grazie. Ciao Paolo. Ciao. Ti è piaciuto? Si è andato bene. Eh, lo vedi, vedi. Sì. Sì.